Ciao a tutti amici di YouTube Benvenuti qua in questo nuovo video dove parleremo dei 40 rudimenti applicati alla batteria Oggi ne vedremo due che sono il Single Stroke Roll e il Single Stroke Four Il Single Stroke Roll praticamente è la combinazione di uno più uno Nel senso un colpo con la mano destra, un colpo con la mano sinistra Il Single Stroke Four invece è quattro colpi dove verrà applicata una terzina di una croma Quindi sarebbe ta 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 ta, ta 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 Questi sono i due colpi che noi andremo a vedere qua sulla batteria Dove metteremo una base di Cass e Charleston Ci sposteremo, inizieremo a studiare a 80 BPM fino a 140 BPM E niente, mettiamoci subito all'opera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti